Musica In studio Veronica Puglisi Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova edizione di MTG Il distanziamento di un metro tra gli alunni, ingressi scaglionati sono alcune delle nuove linee guida per la ripresa della scuola a settembre ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Saradonzus Il 14 settembre riaprono le scuole e sarà un rientro caratterizzato da nuove regole che serviranno a stabilire come stare in classe ma anche nei luoghi comuni come cortile e auditorium Vi è libera i turni e gli ingressi scaglionati in classe, niente plexiglass ha confermato il distanziamento di un metro tra le bocche degli alunni Conte ha annunciato nuovi investimenti per un miliardo precisando che non ci saranno più classi pollaio La didattica a distanza sotto i 14 anni non si farà si farà soltanto per la scuola secondaria di secondo livello ma solo in casi di assoluta necessità quando è proprio impossibile dare vita alla didattica normale Le scuole saranno pulite costantemente ci saranno prodotti igienizzanti, saponi e tutto quanto servirà per assicurare la sicurezza di alunni e alunni e della personale Per questo scopo sono stati già erogati alle istituzioni scolastiche 331 milioni di euro che potranno essere utilizzati anche per i piccoli interventi di manutenzione a red innovativi Il ministero ha messo a punto in queste settimane anche un non croscotto un sistema ossia informatico che incrocia i dati relativi ad aule, laboratori, palestre disponibili con il dato delle studentesse e degli studenti e la distanza da tenere Questo strumento consentirà di individuare comune per comune, scuola per scuola le priorità di intervento e gli alunni a cui sarà necessario trovare nuovi spazi in collaborazione con gli enti locali Secondo i dati dell'anagrafe dell'edilizia scolastica ci sono poi circa 3000 edifici scolastici dismessi che possono essere recuperati Si useranno anche spazi esterni attraverso patti con il territorio per una didattica che possa svolgersi anche nei musei, negli archivistori, nei teatri e nei parchi e inoltre sarà favorito l'acquisto di nuovi arredi come i banchi singoli di nuova generazione che consentono una didattica più collaborativa Nel lavoro che sarà fatto dalle scuole e ai tavoli regionali massima priorità verrà data ai più piccoli che più di tutti, come ha detto ieri Conte insieme al ministro Azzolina hanno sofferto la chiusura della scuola in questi mesi e agli alunni con disabilità Il personale poi sarà formato sui temi della sicurezza e anche sulle nuove tecnologie per non disperdere il lavoro fatto durante la chiusura delle scuole per l'emergenza Ci sarà dunque una campagna informativa sui comportamenti responsabili da tenere che coinvolgerà anche genitori e studenti Infine le indicazioni su distanziamento, mascherine e misure di igiene sono contenute nei documenti elaborati dal Comitato Tecnico Scientifico che però si è già riservato la possibilità di rivalutare a ridosso la ripresa scolastica la necessità dell'obbligo di mascherina sulla base dei dati del contagio che via emergeranno E attendono le linee guida della regione, i dirigenti scolastici delle scuole per chiarire meglio alcuni punti dall'uso dei laboratori a quello delle mascherine E' un primo passo avanti ma ancora attendiamo di capire meglio come muoverci E' la parola dei presidi che hanno letto le linee guida emanate dal Ministero dell'Istruzione ma attendono ancora di capire nei prossimi mesi se qualcosa cambierà e rivolgono lo sguardo verso la regione e soprattutto aspettando che l'assessore regionale dell'istruzione alla galla possa emettere le linee guida regionali Intanto è proprio l'assessore a dichiarare che il testo licenziato alla conferenza risulta più completo ed equilibrato rispetto a quello originariamente proposto dal Governo e per quanto riguarda la Sicilia rappresenterà il fondamentale punto di riferimento per le decisioni che su scala regionale d'intesa con l'USR dovranno essere assunte entro il prossimo 10 luglio Per la galla il risultato è da considerare particolarmente rilevante per effetto le ulteriori risorse pari a un miliardo reperite anche per il reclutamento di nuova docenza e personale scolastico nonché per le misure adottate in materia di distanziamento che prevedono separazioni interpersonali più compatibili con un più largo uso alle strutture scolastiche esistenti e disponibili L'assessore sottolinea anche l'attenzione che la conferenza è riservato anche su espressa proposta alla regione siciliana al tema dei trasporti che dovranno essere localmente potenziati per favorire la mobilità degli studenti in fasce orarie diverse con evidente esigenze di maggiori risorse Sia l'assessore sia chi collabora con lui in questo team per la scuola dovrà rivedere tutte queste linee dovrà capire non solo gli investimenti come dover fare questi aiuti alle scuole ma anche tutte le linee vanno riviste in relazione alla situazione della Sicilia quindi attendiamo ancora quali saranno le linee guida è ovvio che ancora il tempo prima che inizi la scuola è tanto però è vero pure che noi operatori della scuola abbiamo bisogno di sapere per poterci attrezzare nel migliore dei modi Indipendentemente da quelle che sono le distanze che ci verranno dette la mascherina, sì, la mascherina no noi interessa che i ragazzi e che i docenti e che tutto il personale della scuola possesse estrema sicurezza se queste nuove linee che sembrano un poco più morbide garantiscono sicurezza evidentemente aiutano anche noi scuole a poter gestire meglio e a poter organizzarci meglio Poco chiare invece le regole sui laboratori? Sì, sui laboratori di per sé non è stato chiaro fino a che punto sia possibile utilizzarli o meno si parla di scuole professionali che possono utilizzarli si chiede ai ragazzi di essere responsabili della loro postazione di lavoro però non si scioglie il nodo che sembrava un nodo forte cioè del non usare i laboratori soprattutto nel primo periodo anche qui aspettiamo nuove linee guida per comprendere meglio se sia possibile o no utilizzare dei laboratori e poi lasciarli alla semplice responsabilità del ragazzo non perché non siano responsabili ma perché è necessario che questa cosa vada fatta bene perché su questa situazione non si scherza è opportuno che noi abbiamo qualche linea guida Cambiamo argomento La Sicilia porta dell'Europa non può essere lasciata sola è l'appello del presidente della regione Nello Musumeci rivolto al premier Giuseppe Conte a seguito dei numerosi sbarchi di migranti lungo le coste siciliane l'ultimo con 28 persone positive intanto l'hotspot di Lampedusa inizia a svuotarsi In una lettera inviata al premier Giuseppe Conte il presidente della regione Nello Musumeci esprime tutta la sua preoccupazione per il fenomeno degli sbarchi che nelle ultime ore vede un incremento lungo le coste siciliane Musumeci si dice preoccupato perché l'esodo di disperati assume connotati più seri in quanto in concomitanza con la pandemia da Covid-19 In Africa infatti il virus circola senza alcun controllo i viaggi della disperazione rappresentano una vera minaccia sia per i migranti che per i siciliani riferendosi ai 28 migranti positivi a bordo della nave Mobi Zaza Il settore del turismo, scrive ancora Musumeci si sta rialzando con grandi sacrifici e difficoltà per salvare una stagione già fortemente ridimensionata La nuova sequela di sbarchi rischia di tradursi in una batosta economica ancora peggiore di quella determinata dal coronavirus e di provocare incontrollati focolai come sta avvenendo in altre parti della nazione Musumeci lancia un appello al governo nazionale affinché la questione migrazione sia al centro del dibattito politico nazionale ed internazionale La Sicilia porta dell'Europa non può essere lasciata ancora da sola servono delle misure efficaci e altre navidone da destinare alla quarantena dei migranti Intanto ieri a Lampedusa altri 72 migranti hanno lasciato l'isola per raggiungere Porto Empedocle La regione Sicilia ha dichiarato lo stato di calamità per Lampedusa e Linosa così come dichiarato dal sindaco Totò Martello Ma i viaggi della speranza continuano favoriti anche dalle ottime condizioni meteomarine Ieri sera alle 23.18 una motovedetta della Guardia Costiera Libica ha intercettato e catturato oltre 70 persone tra cui donne e bambini a bordo del gommone segnalato da Watch the Mad Saving Humans La nostra mare Ionio, che si trovava a poche miglia di distanza, si legge in un post ha offerto la propria disponibilità di imbarcare i naufraghi su un assetto più sicuro che poteva garantire cure medico-sanitarie adeguate I miliziani libici si sono rifiutati spiegano ancora sui social così come il comando della motovedetta libica ha negato informazioni sulla presenza di otto persone decedute e di una donna che avrebbe partorito a bordo come invece i naufraghi avevano segnalato Questa mattina in un altro post su Twitter la Mediterranean Saving Humans conferma che una donna aveva partorito sul gommone durante la traversata 93 persone sono state respinte in Libia i naufraghi hanno riportato che altre 6 persone sono morte Lo scorso 25 giugno è stata dichiarata illegittima dal legge arbitrale la sospensione di 10 giorni che avevo subito con una delibera del 22 luglio del 2019 a parlare l'ex direttore del consorzio di bonifico della Sicilia orientale Fabio Bizzini ritenevo già l'epoca di essere stato pesantemente diffamato e delegittimato nell'esercizio delle mie funzioni dice Bizzini sia nei confronti dei dipendenti che dell'opinione pubblica denunciando il fatto anche agli organi di vigilanza regionali ritengo la decisione del collegio conclude solo un primo tassello nella direzione del ripristino della verità rispetto a una vera e propria azione sotto molti punti di vista opinabile ai miei danni mosso nel silenzio di tanti con l'aiuto dei legali proseguirò la mia azione in tutte le sedi per ricostruire, affermare e salvaguardare la vera verità dei fatti e la mia dignità professionale c'è ogni tipo di rifiuto tra gli scogli del lungomare di Catania spazzatura gettata dalla gente che non rispetta l'ambiente circostante domani è prevista una pulizia straordinaria da parte dei volontari spazzatura buttata sugli scogli come fossero un cassonetto a cielo aperto succede a Catania a lungomare tanta la gente che incurante il bene ambientale lascia lattine, bottiglie, coppette di gelato e molto altro ancora a riprova che ancora ci manca un non forte senso civico che dovrebbe portare al rispetto del bene comune e del bene ambientale domani intanto per riprendere quel processo di urban regeneration avviato da Dastia allo scorso anno e condiviso nel corso dei mesi a svariate associazioni ambientalistiche a partire dalle 16.30 gli attivisti e l'associazione Atlas esideranno appuntamento in piazza Nettuno per bonificare proprio il lungomare Onghina troppo si non si ha il senso della responsabilità e dell'amore pensare che l'ambiente è la nostra casa e lo dovremmo accudire come accudiamo la nostra casa basta avere un buon senso per poter salvarci dalle brutte notizie che sentiamo sul degrado ambientale e questo dipende tutto al rispetto che noi abbiamo verso la natura verso la bellezza del creato Cosa posso pensare? Che la gente non ha rispetto per l'ambiente che si può fare anche un esame di coscienza perché poi se tipo buttiamo la plastica nel mare i pesci giustamente muoiono quindi è come togliere una vita a qualcuno Purtroppo ogni volta si ripresenta lo stesso scenario nella scogliera piena di spazzatura gettata dai cittadini cosa si sente di dire? Ma io mi sento di dire io non sono di Catania ma sono 18 anni che abito qua e la colpa è totalmente la nostra cioè siamo noi che abitiamo questa splendida città che siamo incivili ConfCommercio Ragusa approvate il bilancio 2019 l'associazione è intervenuta sulle difficoltà attraversate dal settore alberghiero e dai tour operator ConfCommercio Ragusa a fianco degli associati oggi più di ieri per sostenerli in un momento di forte crisi economica a causa dell'emergenza sanitaria che ha costretto 15.000 aziende a chiudere le attività ConfCommercio grazie a una gestione virtuosa del presidente provinciale Gianluca Manenti ha approvato il bilancio 2019 dell'ente bilaterale del terziario l'Ebiter con le sigle sindacali di categoria Filcams CGL Fisaskat Cisle Wiltux Will con un avanzo di gestione di 32.514 euro 75.000 euro sono stati suddivisi alle aziende che da qualche settimana hanno riaperto i battenti e sperano nella ripresa con la stagione estiva Il consiglio direttivo ha deliberato un provvedimento che ha riguardato anche l'emergenza Covid rivolgendosi in modo particolare quindi con molta attenzione ai lavoratori che sono stati sospesi con cassa in integrazione e soprattutto si è rivolto anche alle aziende aderenti all'ente bilaterale e tutto ciò per garantire ai lavoratori stessi piena sicurezza facendo in modo che possa essere riconosciuta e stanziata la somma di 75.000 euro da suddividere all'azienda che aderiscono all'ente bilaterale e così come abbiamo fatto negli anni passati l'ente bilaterale corrisponde ai dipendenti dell'azienda dei rimborsi sulle spese sostenute per le attività mediche e anche l'azienda riconosce una parte di corsi di formazione che l'azienda stesso intraprendono Obiettivo di ConfCommercio rilanciare il sistema produttivo Ibleo programmando corsi di formazione e attività dopo l'estate il nodo delle agenzie viaggi è stato affrontato da ConfCommercio Ragusa anche a Palermo alla presenza del presidente dell'Ast Gianfranco Miccichè è stata illustrata la nuova FIAVET 3.0 che si occuperà dei problemi del settore turistico siciliano per il prossimo futuro impegnandosi a tutelare gli interessi di tutte le agenzie viaggi e non solo degli associati Ritorniamo a parlare dell'impianto di biometano in cui i lavori al momento sono bloccati in attesa della sentenza del TAR il prossimo 21 ottobre nei giorni scorsi era intervenuto Giovanni Avola già segretario generale della CGL che chiedeva un incontro al sindaco Abate per trovare un'area alternativa su cui sorgere l'impianto Abate però attende la risposta del TAR Il sindaco di Modiche Ignazio Abate non si sbilancia sull'impianto di biometano incontrata a Bellamagna in territorio di Modica ma alle porte della città di Pozzallo lavori di realizzazione al momento bloccati in attesa che il TAR si pronunci il prossimo 21 ottobre data in cui appunto il Tribunale Amministrativo di Catania si pronuncerà sul ricorso presentato contro la realizzazione dell'impianto di produzione di biometano nei giorni scorsi era intervenuto Giovanni Avola già segretario generale della CGL di Ragusa che aveva posto alcune domande e dopo quattro mesi di silenzio a causa delle emergenze sanitarie legate al coronavirus Avola insieme al sindaco di Pozzallo e ai legali delle parti aveva chiesto un incontro al sindaco di Modica e verificare se è stato attivato il percorso di individuazione di aree alternative su cui dovrebbe sorgere l'impianto Abate non si sbilancia dunque e dichiara di attendere la sentenza del TAR si sta aspettando il ricorso una delle cose che sono state messe a disposizione del ricorso è stata quella mia azione che ho voluto fare in sovraindendenza per quanto riguarda di far bloccare la ditta nell'andare avanti per quanto riguarda la realizzazione dell'impianto di biometano è quella di aspettare un attimo vediamo su quello che dice anche il ricorso il ricorso ma in ogni caso penso che la cosa che interessa più le persone e chi abita lì vicino è il fatto che in questo momento è tutto fermo che si è bloccato poi l'azienda credo che in questi mesi avrà modo di riflettere sulla possibilità di pensare anche a un sito alternativo a Modica nasce un nuovo progetto culturale la via delle collegiate un'iniziativa culturale proposta e pensata dalle parrocchie San Giorgio San Pietro e Santa Maria di Betlemme la storica collegiate della città questa mattina la conferenza stampa di presentazione racchiudere in un'unica esperienza il grande patrimonio culturale delle tre principali chiese di Modica dagli archivi parrocchiali al deposito di memorie secolari alle opere pittoriche dalle collezioni di paramenti sacri alle architetture monumentali che rendono unico il tardo parocco del Val di Noto e questo l'obiettivo del nuovo progetto culturale le vie delle collegiate un'iniziativa culturale proposta e pensata dalle parrocchie del centro storico San Giorgio San Pietro e Santa Maria di Betlemme le storiche collegiate della città la collegiata era legata a una parrocchia o a una chiesa dove alcuni sacerdoti svolgevano un ministero sacerdotale dividendosi i compiti c'era chi pensava agli ammalati c'era chi faceva il catechismo in uno stile di collaborazione e di vera comunione è un'iniziativa che recupera quell'aspetto spirituale indispensabile alla chiesa che è l'aspetto della collaborazione quindi l'aspetto della condivisione cosa credo che rigenera la chiesa da quell'aspetto che risale alle sue origini che la chiesa è nata così è nata multiforme nel senso ricca di diversità ma capace di sinergia è una iniziativa partita dai giovani e i giovani come dire oltre ad essere il futuro sono certamente una ricchezza di sensibilità di ricerca di cultura e quindi personalmente io ho apprezzato molto questa loro questa loro iniziativa di far conoscere e valorizzare i tesori artistici della chiesa di cui Modica è in possesso l'idea è nata in occasione del decennale censimento realizzato dai luoghi del cuore del FAI con un comitato informale formato da alcuni rappresentanti delle parrocchie a cui ha fatto seguito la sigla di un protocollo da parte dei tre parroci delle chiese interessate si tratta di un'idea che va oltre la presentazione di una semplice candidatura al censimento FAI e mira a conservare e valorizzare questa importante eredità culturale che deve essere fruibile a tutti così come ha sottolineato Varelio Petraria uno dei referenti delle parrocchie nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è svolta stamattina nell'aula capitolare di Santa Maria di Betlem alla presenza dei rispettivi parroci e referenti dei comitati parrocchiali dell'assessore alla cultura Maria Monisteri dell'assessore Giorgio Linguanti e il sindaco di Modica Ignazio Abate che ha espresso entusiasmo per il progetto e l'impegno da parte dell'amministrazione per sostenere anche economicamente se ce ne sarà bisogno il progetto per votare la via delle collegiate e partecipare ai luoghi del cuore basta cliccare sul link relativo alle collegiate sul sito del FAI o firmare ai banchetti dedicati presso le parrocchie dalla regione siciliana 48 milioni di euro per progetti di investimento e sviluppo nelle città di Catania e a Cireale sono i fondi dell'agenda urbana che interessa i poli metropolitani dell'isola e le aggregazioni di comune che superano i 100.000 abitanti finanziamenti europei che la regione distribuisce nei territori con le nuove autorità urbane previste dalla POFES Sicilia 2014-2020 insieme a quelle di Palermo Bagheria Sicilia Occidentale Ragusa Modica Siracusa e Messina anche l'autorità urbana di Catania Cireale ha pubblicato tutti i bandi per realizzare gli interventi previsti adesso la linea va alla regia c'è una pausa pubblicitaria tra poco seconda parte del nostro telegiornale l'estate a punta secca nota in tutto il mondo per la casa del commissario Montalbano è già iniziata ma mancano molti servizi come hanno denunciato alcuni turisti nel frattempo il sindaco Giovanni Barone sta intensificando le misure anti-covid mare profumo di mare eh sì della bella stagione ne avevamo proprio bisogno è arrivata ma non tutti i comuni sono preparati ad accogliere al meglio i turisti a causa dell'emergenza sanitaria del covid-19 che ha lasciato tutte fino a metà giugno su un filo spinato tra organizzazioni di servizi carenza di fogna e mancata pulizia le località balneari black continuano comunque a godere del fascino della natura nelle spiagge dei tramonti soprattutto punto secca dove la casa del commissario Montalbano è sempre di grande attrazione già tanti turisti che hanno avuto il desiderio di prendere un po' d'aria di mare nelle acque dove nuota Montalbano ho scelto punta secca perché non la conoscevamo e non conoscevamo neanche dove Montalbano ha girato i lari sceneggiati le varie puntate non stiamo offrendo delle spiagge però a prima chitto insomma con un pulizia sembra leggermente scadente come i servizi li sconosco quindi non so cosa dire ma dal sicuro devo impedire che i servizi lasciano molto al desiderare sono un po' diversa dalle altre volte in cui sono venuto infatti sto accompagnando i miei amici chi proprio perché far togliere questa curiosità di questa zona la vedo un pochettino così un po' impreparata ad accogliere tanti turisti che sicuramente si riverseranno nuovamente su questa zona da Milano però comunque sono siciliana siciliana di dove? Caltagirone poi da tanti anni da piccoli che venivamo qua anche perché ci siamo trovati bene qua sempre dove arrivate? provincia di Messina cosa vi porta qui? quale curiosità? vabbè siamo venuti qua perché appunto a mio papà piace molto Montalbano quindi è un lettore sicuramente andrai a mare non avrai paura del covid non ho paura del covid sono stata ieri al mare era bellissimo quindi oggi vediamo dove possiamo piazzarci il sindaco di Santa Croce Camerina Giovanni Barone sta tentando di non farsi trovare impreparato arruolando polizia locale e droni per i controlli sulle spiagge noi avremo una cartellonistica multilingue in cui spiegheremo i classici dettami per prevenire il contagio quindi distanziamento e quant'altro e poi contiamo di avere finanziato questa iniziativa del lanci per avere degli operatori dei volontari ci sono anche dei vicini urbani che stiamo prendendo in più naturalmente per la stagione estiva e saranno deputati per di più per vigilare sulle spiagge i droni serviranno di ausilio se ci verranno sempre finanziati naturalmente perché sono dei droni sofisticati con atto parlante con macchina fotografica che in caso di assembramento di particolari pericoli useremo anche questi ausili e c'è anche chi dà il benvenuto all'estate intonando una canzone magari in attesa di un nuovo amore a mezzanotte a mezzanotte che io ti penserò ovunque tu sarai sei mia mare profumo di mare con l'amore io voglio giocare e rimaniamo in tema di spiagge perché sono 144 comuni italiani a ricevere la bandiera verde dei pediatri cinque comuni iblei ad aver avuto il riconoscimento che ogni anno premia le località marine con spiagge a misura di bambino il comune di Pozzano lo ha ricevuto questa mattina per il sesto anno consecutivo Alba Adriatica in Abruzza ha ospitato la cerimonia di consegna della bandiera verde selezionando tra i 144 comuni anche i cinque iblei sono otto le spiagge ragusane a misura di bambino che godono di acqua limpida e bassa vicino alla riva sabbia per tori e castelli bagnine e scialuppe di salvataggio giochi spazi per cambiare il pannolino a lattare e nelle vicinanze parchi gelaterie strutture sportive locali per l'aperitivo e ristoranti per i grandi il riconoscimento è andato al comune di Ispia con Santa Maria del Focallo a Marina di Ragusa a Pozzallo con le spiagge di Petra Nera e Raganzino a Vittoria con Scoglitti a Santa Croce e Camerina con Casuzze Punta Secca e Caucana la bandiera verde è insignita dal 2008 da più di 2550 pediatri italiani e europei per il comune di Pozzallo stamattina è indossato il tricolore il consigliere comunale Francesco Giannone il quale è molto sensibile alle tematiche sociali di integrazione si è sempre battuto per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle spiagge così da poter essere godute a pieno dai diversamentabili in carrozzina e anche dalle mamme che scendono a mare con i passeggini la bandiera verde è stata consegnata dall'ideatore dell'iniziativa il pediatra Italo Farnitani stessa conferma per Pozzallo che si è distinta anche per l'accoglienza agli immigrati in un clima di sicurazione e umanità seguendo l'ideale del sindaco santo pozzellese Giorgio Lapira Siamo presi svolto il riconoscimento ancora alle città di Pozzallo rilasciato dalla federazione medici pediatri nazionali in quanto hanno riconosciuto che le nostre spiagge sono a misura di bambino per la nostra città è un onore ringrazio il sindaco professoressa Antonietta Caciotti e il presidente nazionale dei pediatri Italo Farnitani il sindaco il dottore che mi ha dato questa possibilità questa importante missione per reiterare questo grande riconoscimento per la città di Pozzallo Scoperto un nuovo nido di tartarughe nella spiaggia di Marina di Modica il quinto sulla costa Eblea intanto le tartarughe salvate nei giorni precedenti a Caucana e San Pieri stanno ricevendo le dovute cure nel centro di Eraclea Minoa prima di essere rimesse in mare Crescono i nidi di Caretta Caretta segnalati sulle coste Eblea dopo i tre nidi messi in sicurezza già a Randello e una a Donna Lucata questa notte è stato segnalato un nuovo nido a Marina di Modica la biologa Oleana Prato responsabile del progetto del WWF Life Euro Turtles per la Sicilia ha scritto in un post su Facebook anche Marina di Modica ha il suo primo nido quest'anno pubblicando le foto e ringraziando Lisa Zocco e Antonietta Iacono per la segnalazione è stata una piacevole rimpatriata di volontari e un inizio di una nuova avventura insieme ai cittadini che lo scorso anno si presero cura dei nidi di San Pieri e Modica fino a metà ottobre ha scritto Leona Prato la biologa ringrazia anche gli operai della forestale e la ripartizione faunistica di Ragusa per la messa in sicurezza del nido intanto invece le tartarughe salvate nei giorni precedenti a Caucana e San Pieri sono state trasferite da operatori del progetto WWF Area Mediterranea in un centro a loro dedicato aerea Clea Minoa dove ricevono le cure del caso prima di essere rimesse in mare Sabato 4 luglio si svolgerà la seconda edizione dell'operazione pulizia del mare a Cala Bernardo Stop alla plastica e ai rifiuti è questo lo slogan dell'operazione pulizia del mare a Cala Bernardo l'antico borgo marinaro del comune di Noto che si svolgerà il prossimo 4 luglio con l'operazione fondale e litorale pulito si intende oltre all'azione di pulizia in sé sensibilizzare i cittadini di tutte le età alla cura delle nostre coste dei nostri mari i rifiuti per la maggior parte plastica che finiscono in mare sulle spiagge costituiscono infatti un'emergenza ambientale ormai nota il Mediterraneo è una delle aree più colpite ogni giorno infatti finiscono in mare 731 tonnellate di rifiuti dati UNEP e proprio con l'obiettivo di tenere alta l'attenzione sul tema e promuovere comportamenti civili i partecipanti armati di sacchetti e guanti senso civico e tanta buona volontà raccogliendo ogni tipo di rifiuto si renderanno conto di quanto un cambiamento di mentalità e comportamento sia urgente e necessario l'evento giunto alla sua seconda edizione è organizzato da Ivan Bruttaniti referente regionale per la Sicilia di Plastic Free Onlus e vede il patrocino del comune di Noto il sostegno dell'assessorata al turismo e l'assessorata all'ambiente e alla nettezza urbana il museo del mare di Cala Bernardo la SD Siraco Sub di Siracusa il Catanet Diving Club di Catania l'Etna Divers di Catania la SD Octopus Sub di Ragusa lo Scupa Diving di Catania Sigonella Scupa Club e tutti i volontari che saranno a fianco di Plastic Free Onlus Legambiente Noto e Clean Sea Life e Mare Camp Catania quest'anno parteciperà anche la Croce Rossa Italiana l'evento è aperto al pubblico e i cittadini che intendono partecipare possono presentarsi la mattina di sabato 4 luglio al punto di ritrovo alle 9.30 al Radune al Porticciolo e alle 10 si inizierà con l'attività di pulizia della costa dei fondali a mezzogiorno è previsto il termine delle attività e il conferimento dei rifiuti per poi proseguire nel pomeriggio con diverse conferenze sul tema al Museo del Mare nell'area esterna nel rispetto delle misure anti-covid che vietano assembramenti hanno raggiunto Milano e 5 ciclisti partiti sabato scorso dalla città di Comiso per consegnare 35 voucher a medici e infermieri lombardi per un soggiorno gratuito a Comiso tanta l'emozione la gratitudine da parte del personale sanitario che ha dovuto fare conti con l'emergenza covid-19 l'iniziativa il dono dell'ospitalità ha preso il via sabato scorso qualcuno li ha definiti degli eroi per il viaggio compiuto dalla Sicilia alla Lombardia dispensando sorrisi nei confronti di medici infermieri e della gente in un territorio particolarmente colpito dall'emergenza covid-19 dopo 1500 chilometri in bici Marco Di Stefano Salvatore Purromuto Vincenzo Virduzio Nunzio e Vincenzo Schembari sono giunti ieri a Milano accolti nella sede del comune dall'assessore al turismo del comune Roberta Guaineri e dall'assessore regionale al turismo Lara Magoni presenti l'assessore del comune di Comiso Dante Di Trapani e la dottoressa Paola Santa Lucia dell'ASP7 di Ragusa i cinque ciclisti toccando varie tappe della Lombardia tra cui Mantova e Bagnolo San Vito hanno consegnato 35 voucher a medici e infermieri lombardi per un soggiorno gratuito a Comiso a partire dal mese di marzo 2021 nelle parole del pediatra Salvatore Purromuto l'emozione di un viaggio che ha unito simbolicamente l'Italia del nostro viaggio siamo agli sgoccioli ieri siamo stati a Milano abbiamo consegnato il nostro dono dell'ospitalità a Milano nelle mani praticamente delle istituzioni di Milano abbiamo consegnato questi 30 voucher oggi invece siamo a Pistoia perché ci stanno chiamando questa è una tappa supplementare ci stanno chiamando a tanti ospedali perché vogliono praticamente incontrarci per quello che abbiamo fatto adesso quindi oggi oggi siamo a ringraziare i medici di Pistoia e poi proseguiremo il nostro viaggio e con questo servizio è tutto grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio a ringraziare